Bisogna ancora stringere i denti, per un po', poi lo sappiamo, tutto finirà. E allora? E allora vi chiedo due cose. Innanzitutto non dimenticate una volta che tutto sarà finito, chi in questo momento in prima linea, negli ospedali, tutte le persone che sono state coinvolte con uno spirito di sacrificio immenso, non scordiamoci chi non c'è più, e poi soprattutto, quando partirete per fare dei viaggi perché tutto è finito, premiate l'Italia, aiutate chi vive di turismo, cooperativi di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo e soprattutto in questo modo premierete anche il nostro patrimonio e tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente assieme a noi. Grazie.